Una campagna elettorale che alza sempre più i toni, toni che non solo rimangono sulle linee politiche ma che sono arrivati fino ad atti discriminatori. E quello che è successo a Luca, un sostenitore di Dalberto, da quello che si capisce, dal cartello affisso sotto il suo citofono, con altre parole volte a discriminare la persona. Tanti gli enti e le istituzioni che hanno recriminato il gesto e mandato solidarietà al ragazzo colpito, come i tre candidati, è arrivato il sostegno anche da Zanna e dalla CGL, anche dall'Arci che sottolinea l'importanza di una legge. La violenza omobilesbotranspobica colpisce non solo le grandi città, anzi molto spesso sono proprio i centri più piccoli seppur teramo in una città di provincia che si mostra ancora di più violenta e discriminatoria e che colpisce le categorie più vulnerabili, persone magari appellate come diverse, senza capire effettivamente diverse da chi o da cosa. Quello che è accaduto purtroppo è noto a tutte e tutti, un sostenitore del candidato sindaco del centro-sinistra trova appesa alla sua porta una scritta alle cui parole purtroppo sono note a tutte e tutti. Viviamo in un paese purtroppo, l'Italia, in cui è stato appena condannato dall'Europarlamento perché il governo italiano del nostro paese porta avanti una propaganda anti-LGBTQI+, tossica e violenta, insieme a paesi come la Polonia e l'Ungheria, legittimando, anzi incoraggiando gesti come questi, minacciosi e intimidatori verso chi sta cercando di vivere la propria vita in piena libertà come giusto che sia. E sono gesti come questi che hanno l'obiettivo di isolare e di spaventare che la comunità progressista in realtà si fa maggior forza per combattere ogni tipo di discriminazione. Ovviamente mostriamo massima solidarietà e vicinanza a Luca, vittima di questa azione violenta e discriminatoria, nella speranza che si maturi presto la necessità urgentissima di riproporre una legge contro l'uomo lesbo bi-transfobia perché non possiamo più aspettare.